U-Poll, l'app della Polizia di Stato contro bullismo e droga, da oggi prevede nuovi servizi. Per contrastare il contagio da Covid-19 abbiamo l'obbligo di restare a casa. U-Poll può aiutarti nei momenti di difficoltà. Se vuoi segnalare un episodio di violenza domestica, ora puoi farlo. Passiamo agli esempi. Se vuoi segnalare un episodio di bullismo, puoi scrivere e magari inviare una foto. Se vuoi segnalare un episodio di spaccio, puoi scrivere e inviare anche una foto. Se sei vittima o testimone di un episodio di violenza domestica, puoi scrivere e inviare foto. U-Poll, l'app della Polizia di Stato.